benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e oggi farò il video sul mio samsung s8 plus guardate lungo sto telefono non c'entra ne manco in videocamera comunque ok e niente faccio il watch on my phone insomma come anche si chiama le robe che c'ho io il mio cellulare anche tutte le applicazioni insomma vi faccio vedere cosa ho dentro il mio cellulare come avete visto ieri vi ho fatto vedere l'unboxing l'unboxing del samsung s8 plus e ho scaricato già le cose che io già avevo sul huawei sull'altro telefono che adesso ci sto registrando in questo momento e niente adesso ve lo faccio vedere vi faccio vedere tutte le cose che ho scaricato sul samsung qui con l'iride visto mi avete vista ok allora come tema vabbè ho il cowboy dei cut dei cut come cavolo si chiama lui non mi ricordo il push min una roba del genere non mi ricordo e mi piace veramente tanto io questo qui l'avevo visto da una ragazza che faceva vedere il watch on my phone cosa nel mio cellulare era come sfondo questo e a me mi è piaciuto veramente veramente tanto allora cominciamo subito qui mi sa pre bixby va bene non ti voglio via ok quindi come sfondo messo questo è stato anche un po la terrazza c'è la serranda scusate sperando che vedete mai le applicazioni allora qui va bene o amazon shopping e l'ho lasciato però tante volte non c'è sa mai poi qui va beh c'è tutta c'è la cartella con samsung vedete in cacchio che praticamente aveva qui c'è samsung connect registrato vocale le mail archivio internet samsung hilt quello che serve per correre galaxy app samsung jr e samsung e smart which qui c'è tutte le cose di google quindi gmail e spero aspetta così posso lo vedete meglio o meno qui c'è stato vabbè gmail drive il play film duo foto che queste quelle foto che voi caricate in galleria ve le mette su google diciamo qui su foto poi va bene qua c'è stata applicazioni di microsoft play store youtube maps google chrome facebook vabbè eccetera eccetera insomma tutte le robe tutte le applicazioni che voi scaricate qua nella schermatina qua lo metto proprio lontano ecco non ti voglio sempre bixby scusate e insomma le robe che voi scaricate qui vi compare qua insomma allora quindi inutile che ma modella ve lo faccio vedere direttamente qua allora qui c'è la galleria io ho poche foto non ne ho tantissime sinceramente non poche per adesso non ho tante a parte vabbè quelle di whatsapp che devo cancellare eccetera eccetera poi i messaggi vabbè internet che pro uso google chrome play store shazam shazam sarebbe praticamente a parte lo conoscerete tutti non so alla radio oppure state in macchina o da qualche parte che sentite la musica aprite l'applicazione di shazam ci cliccate una volta lui registra la canzone così vi sa dire chi è il cantante e quale canzone è e così la potete scaricare insomma se vi piace eccetera eccetera poi 360 security praticamente questo qui è l'antivirus che io ce l'avevo anche sul vecchio telefono a parte la pubblicità va bene che vai qui vedi pulizia pulire o l'antivirus se serve eccetera eccetera poi va bene whatsapp lo sapete tutti va bella rubrica youtube studio che questo è collegato tramite youtube insomma che qui vi dice le statistiche dove potete anche commentare mettere mi piace eccetera eccetera insomma potete commentare commenti quando iscritti o altre persone comunque si mettono cioè scrivono i commenti nel sul vostro canale su un tipo di video voi andate lì insomma fate tutte le cosine insomma poi vabbè qui invece ho messo vabbè telefono facebook messenger collegato facebook ovviamente lo sapete per chattare su facebook instagram questo è instagram quindi mi raccomando se mi volete seguire io mi chiamo Greta Nils c'è scritto qua sopra Greta Nils 89 che questo qui è il mio instagram poi vabbè la camera ragazzi in attimo lo faccio vedere ma è una bomba cioè guardate adesso tramite il video lo vedete sfocato ma vi giuro è limpidissimo proprio la camera proprio poi c'è l'autofocus che praticamente mette a fuoco qui e qua le fa vedere bene voi lo vedete adesso sfocato perché c'è il tram ciò sto registrando col con il telefono quindi però guardate rende veramente tanto fa certe foto bellissime poi va bene youtube non vedete niente youtube poi ho c cleaner per pulire il telefono dai file residui insomma che non ti servono la youth che è collegato instagram per fare tipo collage sta roba qua zege molto bella questa applicazione anche praticamente ci sta i wallpaper la musica e volendo anche l'icone potete cambiare insomma creano il wallpaper e vedete c'è stato di tutti i tipi proprio il wallpaper e ogni tanto li aggiorna li mette nuovi poi dei della musica vedete se lo faccio sentire un attimo tipo di spasito vedete non sentite niente perché c'è varie ci sono varie canzoni no questo è curate chi ha incastrato peter pa insomma c'è varie canzoni che dopo voi le salvate va sulle impostazioni insomma delle sonnerie le potete mettere anche come sonneria insomma questo lo avevamo dopo pixart è molto carino e chi lo uso sempre quando io faccio le foto che una mia cliente mi viene a cui ancora mi devo registrare aspettate un attimo a parte faccio così registrati con facebook scusate non l'avevo fatto ok e praticamente voi andate qui mandate su modifica consentire perché ancora lo fa per esempio prendete sta foto qui no questa qui che vi ho fatto vedere prima che c'è come sfondo ci sono qua i strumenti effetti la magia l'adesivo il testo che metto ogni volta il testo quando faccio le foto delle unghie una cliente ho finito a fare la ricostruzione quella o quello che sia come si dice scrive il testo gritta nils no dopo se ci mette lo sfondo riflesso ce lo poi mette insomma quindi modifica le foto molto carino poi ci sta pinterest pinterest mi piace veramente tanto il mio profilo vabbè questo qua che sui following sarebbe quelli che seguo io vado su bacheche c'è sta tipo c'è c'è sta un sacco di roba quello che cercatevi da tutto ma un sacco di immagini che non finisce mente le bacheche tipo non so sui orsi qua c'è sta 8.040 8.040 foto dei cavalli dei cani dei delfini insomma dei vario genere doppio qua presa anche le robe delle unghie insomma c'è 3 c'è trasformato un po di roba ma potete cercare anche tatuaggi c'è disegni per i tatuaggi in sacco c'è un sacco di roba proprio è ottimo pinterest mi piace tanto telegram sapete cos'è telegram che è una chat eccetera ok snapchat sappiamo tutti cos'è lumiere molto bello perché lumiere pure quando io mi faccio quando io faccio praticamente dai un'altra volta faccio praticamente sempre foto non so le mie unghie così che ciò raggiunge una specie di video un piccolo video e aspetta aspettate prendo sempre che ne so adesso faccio vedere prendo sempre sta foto qua per di vero le dimensionate come volete fate successivo vedete qui c'è tipo le facce che potete mettere sta roba così love fashion che ce ne tre sta tre di fumo insomma così molto carino che gli da questo effetto molto molto carino poi play giochi vabbè area clienti 3 perché c'ho la 3 qui c'ho con ricordo e vuoi se ricordi che sarebbe registrato vocale che vuol dire che praticamente quando a me mi arriva c'è no registratore vocale registratore per le chiamate quando mi arriva praticamente una chiamata di qualsiasi genere di ragazzo mio di mi mare mi padre mi fiolo per dirvi tutti quanti mi parte un pallino rosso qua su in cima che vuol dire che sta registrando la chiamata infatti adesso vi faccio vedere una cosa qui è tutte salvate vedete tutti i miei collegato sempre i giorni che collegati siamo boomerang a fai quell'effetto lì delle foto che per turno indietro noti poi faccio così e boomerang rifà così c'è capito insomma comunque sapete cos'è non mi so spiega scusate mi sono un po impacciato ma io non mi so spiega bene quando lo spiega io un casino nuota comunque quello poi ho game launcher che serve per i giochi insomma per l'applicazione dei giochi però i giochi che c'erano qua ve li faccio vedere dopo poi ho scaricato cut wall paper dove ho preso questo sfondo qua molto carini infatti già si vede già qui dall'introduzione molto carina con questo unicorno a kawaii infatti l'ho preso apposta a kawaii vedi c'è sta varie cose tutti dei kawaii insomma che mi piace tanto la prossima volta ho messo questo qui da sirinetta adesso lo faccio vedere c'è bellissimo mi piace veramente tanto insomma tutte kawaii tutte queste cose qua poi ho scaricato screen touch questo per fare praticamente i screenshot metti caso che ne so vedo una foto su google mi interessa che ne so la voglio salvare accendo questo e mi fa lo screenshot insomma alla foto insomma quello che è allora passiamo ai giochi i giochi ho ryan drogon e colin io gioco con tutti questi praticamente pokemon goal l'ho scaricato ieri ce l'ho già giocato tempo fa però vabbè l'ho voluto riscaricare e ho solo questi 3 4 5 6 8 giochi e gioco veramente tanto con tutti questi ogni giorno ci gioco dopo ok finisce l'energia eccetera ci di rigiugare o domani o più tardi dopo dipende quattro ore ci mette a caricarsi le vite insomma no a ryan drogon e coli praticamente si tratta sempre di questa ragazza qui vedete questa con i capelli marroni che sarei io che praticamente tutta una storia d'amore no adesso vi faccio vedere tipo questo qui di ryan vi faccio giocare no qui dopo vedete così c'è tutta c'è tutta una storia insomma c'è tre c'è tre clicchi dopo vai avanti e insomma c'è la storia che lei che io in teoria sono fidanzata con questa questa la sorella insomma sta roba è così e quindi queste qui è lo stesso più o meno con personaggi diversi ovviamente questo dei vampiri bellissimo insomma ti pare che ci sei veramente questi tre giochi veramente pare che ti prende tanto mi piace tanto poi oh vabbè se avete word e questo qui è tipo criminal case quello normale che c'è su che c'è su facebook questo è un altro vabbè fate gioca e questo tipo gioco da guzza a guzza alla vista no che dovete cercare praticamente l'assassino diciamo no scusate dovete cercare l'assassino qui c'è le scene eccetera eccetera e via dicendo poi ho bubble witch 3 saga che sarebbe quello lì lo faccio vedere comunque vi faccio vedere un attimo sarebbe quello lì delle bolle che prima c'era bubble witch saga 2 lì uno aspetta sbasso un po' il volume perché sennò è troppo forte cioè bellissimo vabbè qui deve fare tutti questi ciaffi la polvere va bene ciao ancora è arrivata a 177 di livello che non ce la faccio a farlo e vedete questi qui delle bolle praticamente no molto carino insomma così eccetera insomma questo poi ho aspetta scusate che io da qui levo tutto che sono un attimino ok poi ho questo qui pure june's journey che lo faccio vedere ma ce so lo faccio vedere tutti e questo pure di guzza alla vista di cercare oggetti nascosti in più però ti puoi costruire tipo una specie di città diciamo mano mano che vai avanti con come si chiama con con i giochi insomma vedete da qui io prendo questo 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 voi andate qui praticamente voi dovete fare questi livelli qua no e poi dopo vi potete costruire mano a mano la vostra cittadina insomma ecco poi io lascio così perché tanto homescapes questo qui molto carino e ho cliccato non so non si che qui pure dovete adesso ve lo faccio vedere meglio dovete costruire tipo la casa no vedete già io qua ho messo tutto in ordine vedete qua tutta sfasciata che bisogna farla deve qui per esempio devi giocare con questi qua no tipo adesso via tipo candy crash per il modo vedi me candy crash non mi piace vedete qua devo prendere due biscotti e 40 bottoni no allora fate così insomma dopo mano a mano che voi riuscite a farlo insomma il giochetto aspettate dopo che riuscite a fare il giochetto lui vi chiede vedi qui costrisci uno spaventapasseri te ne serve una stella quindi te giochi dopo quando c'è una stella te fa costruirsi insomma lo spaventapasseri pokemon go vabbè adesso non ve lo sto aprire perché sapete cos'è che dovete andare in giro no camminando eccetera anche in giro con la macchina comunque ho trovato in sacco di pokemon eccetera eccetera e poi niente ho finito per adesso ho solo queste applicazioni qui non sono tantissime comunque da sabato che ho ho scaricato cioè ho scusate ho preso il telefono quindi niente questo qui è tutte le cose che ho io nel se ha preso bixby che ho io nel poi qui pure volendo posso aggiungere la roba vabbè che ho nel mio telefono samsung s8 plus carini bucciosi questi mi piacciono tanto 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 e niente io spero che comunque questo video vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice in su se volete sotto nei commenti commentatemi fatemi sapere cosa ne pensate di questo telefono e delle applicazioni se l'avete alcune se l'avete anche voi oppure no se l'avete anche voi oppure no e poi cos'altro dirvi ah sotto nei commenti casomai mi potete dire anche casomai se volete che faccia un video su questo telefono qui proprio che volete sapere qualcosa non so fatemi sapere voi io niente vi saluto vi mando un bacio ci vediamo presto al prossimo video ciao